Scuderia Lega si scaldano i motori, ecco schierati tutti i candidati vicentini per le elezioni politiche. Alla camera per il collegio plurinominale corrono Silvia Covolo, il segretario provinciale del Carroccio Eric Pretto, Silvia Maino e il segretario cittadino Matteo Celebron. Per l'uninominale a Bassano in lista c'è l'ex sindaco di Cartigliano Germano Racchella. Al senato Erika Stefani compare sia al plurinominale che all'uninominale a Vicenza. Parola d'ordine. Prima Vicenza, prima Veneto, prima l'autonomia. Questi sono candidati che hanno un'esperienza amministrativa alle spalle, quindi gente che porta l'esperienza del territorio, gente che ha un legame forte anche con l'amministrazione regionale, quindi sicuramente dei parlamentari che rappresenteranno al meglio Vicenza, il territorio vicentino appunto a Roma. Elezioni, prima le politiche, poi le amministrative. A Vicenza la Lega, nello scambio controviso, ha appoggiato il candidato sindaco di Forza Italia, Fabio Mantovani. Ora però, attenzione, perché il risultato delle politiche sarà decisivo. Oggi il Carroccio vuole mantenere fede al patto con i berlusconiani, ma se in Parlamento le elezioni non decreteranno una maggioranza e a livello nazionale si rimescoleranno le alleanze, allora Lega e Forza Italia potrebbero divorziare. E in tal caso si scioglierebbe la coalizione che nelle amministrative di Vicenza sostiene Fabio Mantovani. Se non ci sarà una formula di governo piena, è chiaro che anche i rapporti sul territorio vengono meno e le strette di mano diventano molto più deboli.